Dal 27 aprile al 18 maggio 2022 si possono presentare le domande per la procedura per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA per la formazione delle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2022-2023, le cosiddette graduatorie 24 mesi ATA. Come presentare l'istanza? Per poter accedere al servizio è necessario essere in possesso di un'utenza speed valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'Istruzione e inoltre serve l'abilitazione specifica al servizio istanze online POLIS. Per quali profili si può presentare domanda? I concorsi sono finalizzati all'accesso ai ruoli provinciali relativi ai seguenti profili professionali. Area A, collaboratore scolastico Area AS, addetto alle aziende agrarie Area B, assistente amministrativo Assistente tecnico Cuoco Guardarobbiere Infermiere Requisiti di servizio Il richiedente deve aver svolto due anni di servizio presso la scuola statale, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi. Le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni 30 giorni e l'eventuale residuo a frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Scelta delle sedi La scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie sarà effettuata in modalità telematica secondo modalità e tempi che saranno indicati con successiva nota. Valutazione servizio civile È valutabile come servizio svolto presso enti pubblici e anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Assistenti amministrativi che hanno svolto il ruolo di DSGA Gli assistenti amministrativi non di ruolo possono dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 Assunzioni in ruolo I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente nell'ordine della medesima sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili e in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione. Precedenze nelle supplenze annuali Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato hanno diritto ad essere assunti con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Grazie 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 Grazie